La salute mentale è importante, una riflessione filosofica. La salute mentale è uno stato di benessere in cui l'individuo è in grado di usare le proprie capacità cognitive ed emotive, di far fronte alle normali difficoltà della vita, di lavorare in modo produttivo e di contribuire alla propria comunità. La salute mentale è importante perché è essenziale per il nostro benessere e per la nostra capacità di vivere una vita piena e soddisfacente. Quando la nostra salute mentale è compromessa, possiamo sperimentare una serie di problemi, tra cui disturbi dell'umore, come depressione e ansia. Disturbi d'ansia, come attacchi di panico e fobie. Disturbi della personalità, come disturbo borderline di personalità e disturbo antisociale di personalità. Disturbi alimentari, come anoressia nervosa e bulimia nervosa. Dipendenze, come dipendenza da alcol, droghe e gioco d'azzardo. I disturbi mentali possono avere un impatto significativo sulla nostra vita, sia a livello personale che sociale. Possono ostacolare la nostra capacità di lavorare, di studiare, di avere relazioni significative e di partecipare alla vita sociale. Per questo motivo, è importante prendersi cura della propria salute mentale. Ci sono molte cose che possiamo fare per promuovere la nostra salute mentale, tra cui condurre uno stile di vita sano, che includa una dieta equilibrata, un'attività fisica regolare e un buon riposo. Mantenere relazioni sociali sane. Imparare a gestire lo stress. Cercare aiuto professionale se necessario. Una riflessione filosofica. Dal punto di vista filosofico, la salute mentale può essere considerata come un aspetto essenziale della nostra esistenza. La salute mentale ci permette di essere noi stessi, di vivere pienamente la nostra vita e di contribuire al mondo che ci circonda. La salute mentale è anche un prerequisito per la libertà. Quando la nostra salute mentale è compromessa, possiamo sentirci limitati e incapaci di prendere le nostre decisioni. Conclusione. La salute mentale è un aspetto importante della nostra vita, che non deve essere trascurato. Prendersi cura della propria salute mentale è un investimento per il nostro benessere e per la nostra felicità.